Quando si gioca in categorie diverse, serie D, serie C, serie B, una cosa che noti subito è la velocità del pallone, nel passaggio, nel cross, nel calcio d'angolo, nella punizione, e ancora nei settori giovanili, diamo poca importanza a questo. Quando si dice Pirlo, ah Pirlo, c'aveva gli occhi anche dietro, a parte la sua grossa e grandissima abilità tecnica, gli occhi dietro significa la presa di informazioni, sapeva già, prima di ricevere palla, sapeva già cosa c'era dietro, come era messo, cosa voleva fare, ancora prima di ricevere la palla.